Abbiamo organizzato questo incontro forse anche alla luce di quello che è accaduto in estate ma che poi è un argomento sempre attuale purtroppo che è quello dell'ambiente e dei disastri legati appunto ad eventi che possono essere naturali come no. Diciamo è stato casuale perché questo incontro con Infiniti Mondi e gli amici della rivista insomma ormai erano mesi che stavamo organizzando questa cosa poi è successo tutto quello che è successo nei giorni scorsi qui in territorio non c'era superiore ad Angri e ce ne abbiamo approfittato di avendo nella rivista un pezzo rispetto a queste vicende abbiamo ritenuto di centrarlo su questo quindi disastri ambientali e territorio ci è sembrato giusto farlo insomma. Ecco sempre attenti comunque come associazione a quelle che sono questi tipi di iniziative questi incontri che poi sono aperti alla cittadinanza. Assolutamente sì, noi lavoriamo molto in tutta Italia perché abbiamo la nostra casa editrice, abbiamo la nostra testata nazionale noi facciamo dell'informazione della cultura un segno importante soprattutto di informazione libera, informazione autonoma è grande crescita, noi abbiamo un vivaio straordinario di ragazzi tra i 20 e i 30 anni che lavorano per noi speriamo che se nel futuro sostituiscono me e chi come me sta in giro ancora per poco spero.